Messaggio di San Michele Arcangelo alla sua amata figlia Luzia De Maria il 12 giugno 2021 Amato popolo di Dio, vi benedico nel nome della Trinità Sacrosanta e della nostra Regine Madre. Questo popolo di Dio deve rimanere sotto la protezione del cuore sacratissimo del nostro Re Signore Gesù Cristo per poter raggiungere questo traguardo è imprescindibile. L'autenticità della persona, l'ipocrisia dei sepolcri biancati non è ammissibile. Sono poche le persone che si esaminano veramente e che vedono i loro difetti. Sono pochi coloro che intraprendono il cammino di una vera conversione. Nel popolo di Dio sovrabbondano gli ipocriti. È urgente la conversione autentica, alla quale l'essere umano viene meno quando si considera come un Dio. Tronchio della falsità del suo ego umano Le opere e le azioni personali sono il termometro che senza finzioni danno voce alla vera vita anteriore, ormai contagiata dalla cecità spirituale che ha inondato la Terra. Le mie legioni celesti si mantengono in costante vigilanza sulle persone che si rifiutano di guardarsi allo specchio dalla verità e di assumersi la responsabilità dei loro errori. Questi figli di Dio devono fare una sosta di riflessione sul loro cammino, altrimenti arriveranno a consegnare i loro fratelli nelle mani dell'Anticristo. Popolo di Dio, eliminate quello che continuate a tenere nella mente, con sete di vendetta, nel pensiero, con rancore e invidia e nel cuore con odio. Popolo di Dio, non considerate solo il bene con il quale credete di comportarvi e di agire questa eroganza e superbia. E' così che si comportano i serbi ingrati che, a causa della cancrena che ha infettato le loro anime, rinnegano il Re e il Signore dei Cieli della Terra. Per questo motivo gli elementi purificheranno l'umanità e, per un atto della grande misericordia del nostro Re, Signore Gesù Cristo, specialmente l'uomo oppresso dal male dal quale lui stesso e responsabile guarderà dentro di sé. Popolo di Dio, il demonio non è un'invenzione, esiste, vi ruba la pace, vi porta a lottare gli uni contro gli altri e gioisce quando ci riesce. Oh, creature stolte, che siete la causa della gioia del demonio. Amato popolo di Dio, la malattia continuerà a portare l'umanità a dolori sempre più grandi. L'elite sta minando la vostra salute, la morte sta affrettando il passo, la terra è instabile e i terremoti arriveranno in me che non si dica. Allerta, umanità, allerta. Ho convocato il popolo di Dio alla preghiera, affinché ogni singola persona, di fronte alla vicinanza dell'avvertimento e l'urgenza di salvarsi l'anima, supplichi di ottenere il discernimento sul proprio modo di comportarsi e di agire. Supplicate lo Spirito Santo affinché possiate ottenere la forza necessaria per proseguire nella fede, perché i prossimi accadimenti che colpiranno la terra e l'umanità saranno gravi. Ringraziate il Dio, uno e trino, per la protezione degli innocenti. Senza andare in panico né entrare in disperazione, il popolo di Dio rimane fedele a Dio. Va dove Dio lo ha chiamato, affidandosi alla protezione e alla provvidenza divina. Le mie legioni vi custodiranno, perché non veniate meno. Allerta, creature umane, allerta, convertitevi. Non temete, io vengo inviato dalla Trinità Sacrosanta per proteggervi, per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. San Michele Arcangelo, Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Commento di Luzio e De Maria Fratelli, l'essere umano si trova di fronte a tante avventure perché ha male utilizzato la ricchezza spirituale della quale nostro Signore Gesù Cristo ci aveva fatto dono. San Michele Arcangelo è molto chiaro nel suo appello di abbandonare quella volontà umana che sta portando l'umanità di sofferenza in sofferenza. Accogliamo con amore e fiducia le petizioni del 15 giugno. Questo 15 giugno che è già passato, che è stato ieri, visto che questo messaggio del 12 lo sto registrando oggi, che è il 16 giugno, San Michele Arcangelo ha chiesto per il 15 giugno una giornata di preghiera dove è necessaria la santa confessione, la santa messa, la preghiera e qualche opera di misericordia. Allora, il passo necessario per entrare nella grazia del cielo, tutto, è quello di guardarsi dentro e farsi delle domande interiori per vedere quello che non va, quello che ci sta portando a determinati vizi, perché poi i vizi generano frustrazione e il demonio entra in quella frustrazione e ci induce a continuare quella perversione nella quale lui gioisce e il cielo piange. Per questo è imprescindibile che tutti, noi che abbiamo la Santissima Trinità, ci mettiamo in testa che è imprescindibile esaminarci dentro giorno dopo giorno, pregare, lodare la Santissima Trinità, fare le opere. Però questo passo è molto importante, l'esame di coscienza quotidiano, non settimanale, non mensile, quotidiano, perché poi il cielo ci vuole pronti e davanti l'avvertimento, che per molti sarà sofferenza, ma per coloro che si sono impegnati a guardarsi dentro, a leggere i messaggi in generale della Madonna, non solo questi, in generale. Poi il cielo premia queste anime, perché dal cielo ci sono gli angeli, gli arcangeli, ci sono altri tipi di messaggeri, perché le regioni angeliche sono fatte di diverse gerarchie e tutte queste gerarchie ci guardano, ci osservano e leggono dentro il nostro cuore. Perché durante l'avvertimento noi vedremo il male che abbiamo compiuto. E voi che cosa pensate? Che dal cielo, quando una persona pensa a una cosa brutta e lo vuole mettere in pratica, cosa fanno queste legioni angeliche? Si dispiacciono nel vedere l'azione che compie quella persona o hanno anche la capacità di leggere i pensieri di tutte le persone contemporaneamente, vedere quello che pensano, vedere se mettono in pratica un esame di coscienza, vedere se vogliono migliorare, vedere se vogliono continuare la loro vita peccaminosa. Loro leggono i nostri pensieri e tutto quello che leggono, lo leggono grazie alla nostra anima. Perché la nostra anima è come se fosse un archivio, un computer dove all'interno c'è un hard disk, un SSD, in termini tecnologici, dove vengono raccolte tutte le informazioni, i pensieri, i ricordi, i respiri, tutto viene raccolto in quest'anima. Viene immagazzinato tutto, quanti battiti sono stati fatti, quanti respiri, quanti parolacce, quanti bestemmi, viene raccolto tutto. E allora poi, nell'avvertimento universale, il Signore aprirà questa porta e andrà a selezionare la cartella bestemmie, parolacce, cattive opere, e ce le farò vedere con i suoi occhi. Questo accadrà al 100% in cielo, ma accadrà al 100% anche in terra, perché è stato profetizzato. E quindi noi ci dirigiamo verso questo tempo, che sono i segreti di Međugorje, che sono la realizzazione dei segreti di Fatima, perché la Madonna è venuta a Međugorje per realizzare quello che è iniziato a Fatima, per completare quello che è iniziato a Fatima. E a Fatima ha annunciato l'avvertimento nei segreti di Fatima, ma di questo poi ne possiamo parlare in altri video, anche se su questo canale YouTube troverete già quello di cui sto dicendo. Allora vi invito a non perdere tempo per esaminarvi, confessarvi, andare a Messa e notare la Santissima Trinità, senza dimenticarci che dobbiamo sempre, tutti i giorni, chiedere l'ausilio dello Spirito Santo affinché ci aiuti a mettere in pratica questo discernimento necessario per essere non ipocriti, ma umili e veri davanti a questo ceno che ci guarda, ci osserva, ci legge dentro e si aspetta da ognuno di noi quel cambiamento che però sta avvenendo soltanto in poche persone. Sia notato Gesù Cristo. Sia notato Gesù Cristo.